Vaccinazioni anche a Carbis Bay, Cornovaglia, Regno Unito. È qui che in questo fine settimana si tiene, dopo molto tempo, il primo summit dei grandi della Terra in presenza e il primo G7 di Joe Biden. Il successo della campagna di vaccinazione negli USA gli permette di dichiarare che gli Stati Uniti saranno l'arsenale di tutti i vaccini per combattere la pandemia in tutto il mondo. Uno degli obiettivi del G7 è infatti donare un miliardo di dosi di vaccino ai paesi più poveri. La metà, 500 milioni di dosi, sarà offerta proprio da Biden. Gli Stati Uniti acquisteranno mezzo miliardo di dosi del vaccino Covid-19 della Pfizer per donarlo a quasi 100 nazioni che ne hanno estremo bisogno nella lotta contro questa pandemia. Questo è un passo storico, il più grande singolo acquisto e donazione di vaccini Covid-19 da parte di qualsiasi singolo paese. Il Regno Unito, che ospita il Vertice, donerà 100 milioni di dosi. Nel loro incontro alla vigilia del G7, Biden e il premier britannico Boris Johnson hanno firmato una nuova carta atlantica, ispirata a quella di Roosevelt e Churchill, ma adattata alle sfide del ventunesimo secolo. In riva al mare, commenta Boris Johnson. I colloqui sono stati fantastici, sono andati avanti a lungo, abbiamo discusso di una vasta gamma di argomenti. È meraviglioso ascoltare Joe Biden, perché c'è così tanto che vuole fare insieme a noi. Dalla sicurezza alla Nato e cambiamenti climatici. È stato fantastico, una boccata d'aria fresca. Ci sono così tante cose che vogliamo e possiamo fare insieme. Tra i primi leader del G7 ad arrivare in cornovaglia è il premier canadese Justin Trudeau. Uno dei punti principali dell'agenda è la ripresa economica dopo la pandemia e i piani per essere preparati nel caso una nuova pandemia dovesse colpire il mondo. Oltre a Biden, Johnson e Trudeau saranno presenti Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, il premier italiano Mario Draghi, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro giapponese Yoshihide Suga.